Uno spazio verde nel cuore della città, un piccolo paradiso in parte perduto. Il giardino inglese di Palermo attende da anni un intervento di manutenzione sulla pavimentazione, su alcune strutture e sull'impianto di illuminazione. Ad oggi se il verde viene curato il resto sembra rimanere ostaggio dei vandali, come ad esempio avviene per la serra. A segnalare lo stato di degrado stamattina, ditelo in diretta, è stato un lettore con un messaggio audio inviato attraverso Whatsapp. Perché continuano ad ignorare la bellissima serra voliera del Basile, abbandonata in assoluto degrado, con tanti vetri rotti, molto pericolosi per visitatori e bambini. Il vetro che è stato distrutto si trova sparso per terra e sul muretto, uno stato di incurie che stride con il resto di una villa che è comunque amata da chi la frequenta. In parte diciamo è un po' degradato, un po' abbandonato, fra l'altro l'immunicazione non funziona, ha anni addirittura che non funziona. Sempre sono giardinieri qua, sempre fare tutte le cose che bisogna di fare. Il comune nei giorni scorsi aveva assicurato un intervento di manutenzione su parte della pavimentazione e su alcune strutture.